Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Il dietro le quinte del matrimonio di Meghan e Harry sembra nascondere più di un retroscena A quanto pare la duchessa di Sussex non solo non avrebbe avuto l'approvazione della cognata Kate in merito agli outfit scelti per le damigelle, ma anche la regina Elisabetta non avrebbe trovato di buon gusto la decisione di indossare l'abito bianco La lite avvenuta con la moglie del principe William è ormai un fatto di dominio pubblico, la causa furono le calze indossate dai bambini che Meghan non approvava, mentre Kate le riteneva opportuni Meghan Markle l'abito bianco contestato dalla sovrana.A quanto pare anche la sovrana in quell'occasione ebbe da ridire Meghan con volava a nozze per la seconda volta di conseguenza indossare l'abito bianco non era proprio opportuno Elisabetta II, secondo alcuni rumors, si aspettava una tonalità meno candida orientata verso un ecru o un color crema La regina è rimasta sorpresa dal fatto che Meghan indossasse il bianco puro il giorno del suo matrimonio ha rivelato un insider a Kate Nichol La scrittrice ha riportato le informazioni reperite nel suo libro The New Royals in cui si legge anche, forse è una cosa generazionale, ma lei crede che se sei stato sposato prima, ti vesti di bianco sporco il giorno del tuo matrimonio, che è quello che ha fatto la duchessa di Cornovaglia Quando Camilla sposò Carlo rispettò le regole del protocollo e scelse un bellissimo abito color grigio perla, mentre a quanto pare Meghan fece le sue scelte in piena consapevolezza senza tener conto dell'etichetta reale e del fatto che avrebbe potuto non apparire consona secondo i dettami di corte Meghan Markle despota indisponente, parla allo staff.Nel periodo in cui è rimasta a corte, a fianco del marito Harry Meghan avrebbe avuto un atteggiamento despota e poco gentile con il suo staff Il Sunday Times ha riferito che la duchessa di Sussex non si sarebbe mai sentita ben voluta a palazzo e questo avrebbe creato in lei una serie di malumori Secondo alcuni membri dello staff al suo servizio Meghan era una persona indisponente, mai gentile ma soprattutto despota, è una despota capricciosa Già dalla mattina tartassa di mail i suoi collaboratori. Ha riferito un ex dipendente di corte Punto grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video